Salve a tutti ragazzi, allora scusate il look da pigiama però purtroppo Allora, Salernitana, aspettate mi metto un po' di luce, ecco Luce a San Si... no Vabbè, comunque, allora Salernitana che sale di nuovo in Serie A dopo il 99, quindi praticamente dopo più Dopo insomma qualcosa come più di 20 anni la Salernitana torna di nuovo in Serie A Pesca la Salernitana 3-0, partita decisiva per l'entrata senza i playoff Direttamente in Serie A la Salernitana, complimenti ai giocatori, giustamente vi chiederete tutti quanti Ma tu, scusami, che cosa c'entri? Tu che sei tifoso del Milan, cosa c'entri? Per chi non lo sapesse, nel mio canale, cioè insomma tra i miei follower o altro, io sono di Salerno Per precisare sono... vabbè, non posso dire tutto perché la mia vita privata vorrei che restasse tale Anche perché, scusate la ciglia, maledizione Comunque, vorrei che restasse in privato perché comunque voglio creare un distacco tra la mia vita anche di lavoro E quella là, qua di Youtube e quella là di, insomma, quella là di, insomma, vita privata Insomma, quella là, insomma, privata Comunque, tornando alla Salernitana, io ragazzi non li conosco tutti i giocatori della Salernitana Perché io, sinceramente, non li seguo granché in quanto sono tifoso solo del Milan Però volevo fare questo video per congratularmi con loro Perché comunque salire in Serie A non è una cosa facile Gli anni passati ci avete provato, però senza successo Quest'anno ci siete riusciti, ve lo meditate Io ero presente alla Venezia Salernitana 1-2 Papà dice che io porto la fortuna perché stavo guardando la partita Lui sta guardando la partita, cioè papà sta guardando la partita Perché mio padre, io sono arrivato sull'1-1 Più o meno ho detto, papà, questa la vincete Puffete, 2-1 Ho detto, se il mio talismano qua là Eh, l'ho fatto questa volta Però ragazzi, durante la Salernitana Milan, ve lo dico Io tiferò per il Milan, ve lo dico, eh Forza Milan sempre Però, comunque, pazienza, insomma In ogni caso, io sono molto contento Pazienza in che senso? Pazienza, dico col fatto che sono del Milan Perché tanto ne avete tanti, di tifosi Avete fatto anche una gran bella festa in città Ho visto a Torrione Poi su tutti i telegiornalista A meno quelli là della nostra regione, della Campania Per chi, ripeto, non la conoscesse La nostra città Sta facendo servizi sui, insomma, sui storici tifosi Insomma, di appunto Salernitani Granata, come si dice nel circolo Poi anche vedo molti che festeggiano Per la serie, insomma Per aver conquistato la serie A O anche in altre zone di Saleno Tipo nel centro Quello è il più affollato L'ho anche visto che con i miei occhi Siete veramente Da tifoso milanista Ve lo dico, come tifoseria Siete uno spettacolo Siete, siete uno spettacolo Comunque, dicevo Lasciamo stare il resto Allora Per il resto, ragazzi Allora, saluto quelli che mi stanno seguendo di Salerno Saluto in particolare Alessandro Vitale Mio grande amico tifoso della Salernitana Solo una cosa Ale, per favore Non appiccicarti più con gli Ultras di Salerno Ok? Perché questo è peso Perché va bene i tifosi Però gli Ultras mi fanno Anche quelli del Milan Mi fanno paura in tutti i casi Qualunque Ultras sia Quelli dell'Inter Non ha addirittura ammazzato un nostro tifoso Quindi lasciamo stare Comunque, tornando a noi Lasciamo perdere queste cose Allora Mi raccomando Ti saluto grande Ale Anche a te Federico Mio grandi amici salernitani Allora, per il resto Sempre forza Milan Ovviamente per me Però voi Speriamo che la Salernitana Ci resti parecchi anni in Serie A Voi il Benevento Ve lo meditate veramente Ve lo meditate veramente Comunque Nel frattempo Speriamo che Inzaghi si salvi Poverino Filippuccio Vabbè Dai, dai Lasciamo stare adesso Ripeto Con adorazioni ancora Saluto anche tutti quelli Di Salerno Che mi conoscono Che magari mi hanno seguito E ci vediamo Alla prossima partita PS Tornando al Milan Cari rossoneri Io guarderò solo un po' Della partita col Torino Ma vi avverto Dio Zlatan Non è venuto Non ha rinnovato solo Per vincere con la Juve E poi addio Dobbiamo vincere Le ultime partite rimaste Per andare in Champions League Ok? E farete bene a vincerle Porca puttana Non voglio sentire scuse Alla prossima partita Alla prossima partita Alla prossima partita Alla prossima partita